Gli aggiornamenti di oggi riguardano la Crimea e la federazione russa. Le forze ucraine hanno continuato con i loro attacchi di precisione contro le infrastrutture dell'esercito russo in territorio nemico. Con droni e missili hanno bersagliato a setti chiave da depositi di munizioni a posti di comando, scuotendo le fondamenta delle operazioni russe. Ieri i droni ucraini hanno bersagliato Feodosia colpendo un centro di trasbordo chiave. Quest'infrastruttura portuale non è un semplice deposito di carburante, ma è progettato per accogliere petroliere tutto l'anno e distribuire rifornimenti in tutta la penisola Crimea. L'attacco ha inflitto danni significativi come mostrato dalle immagini della zona, il che suggerisce che la logistica nella regione sarà ora più dipendente da ferrovie e strade, complicando e rallentando il trasporto. Pochi giorni prima, le forze speciali ucraine avevano lanciato diversi sciami di droni e il loro primo obiettivo è stato il deposito di carburante vicino a Voronez. Nonostante gli ufficiali russi abbiano annunciato l'intercettamento di tutti i droni, immagini mostrano incendi del complesso. È stato bersagliato un altro deposito nella regione di Perm e, come nel precedente caso, le immagini ci confermano il danneggiamento delle infrastrutture. Video pubblicati dai residenti sui social media hanno ripreso l'arrivo del missile drone ucraino, con una velocità e altitudine tali da rendere le difese russe inutili. Il successivo attacco ucraino si è diretto contro l'aeroporto di Boriglebs nella regione di Voronez per distruggere depositi di bombe cab, gli aerei SU-35 e relativi depositi di carburante. Esplosioni e incendi sono stati riportati dai residenti durante la notte e confermati successivamente da dati satellitari che mostrano diversi punti, ognuno corrispondente a un incendio. Mentre i danni sono difficili da valutare, le immagini disponibili mostrano che, nonostante gli incendi non abbiano coinvolto direttamente aerei o edifici, si sono espansi verso i container vicino alla pista e si conferma che le difese russe non sono state in grado di evitare questo tipo di attacchi. In preparazione per questa operazione, le forze UKN hanno distrutto un radar 96L6 a 15 km ovest di Belgorod, parte di un sistema contraereo S-400. Questo radar può tracciare fino a 100 bersagli contemporaneamente e riconoscere varie tipologie, aerei, elicotteri, droni o missili. Come si vede in questa geolocalizzazione, un drone da ricognizione Shark Ukraine ha individuato e corretto il tiro dell'attacco. Il secondo bersaglio di valore è stata una stazione radar Nebo-M distrutta da un Atakams. La sua distruzione riduce le capacità russe di individuare, tracciare e intercettare ogni tipo di minaccia, specie considerando che sono rimasti solo più 10 sistemi operativi, avendo gli ukraini già distrutto metà di quelli in servizio. Costante 100 milioni di euro, il Nebo-M è famoso per essere difficile da neutralizzare, essendo stato costruito con le tecnologie più avanzate a disposizione. La sua distruzione, secondo alcuni analisti, suggerisce che sia un tentativo di creare un territorio sicuro per attacchi successivi. Con i cieli liberi, gli operatori di droni ukraini sono stati in grado di colpire l'arsenale di Kotluban a Volgograd. La struttura colpita era usata per conservare e migliorare l'artiglieria a razzo e aveva da poco ricevuto un carico di razzi iraniani. Nonostante le difese piuttosto robuste e costituite da sistemi di guerra elettronica e contraerei, le forze ukraine sono riuscite a completare la missione, scatenando diversi incendi ed esplosioni. Testimoni hanno riportato più di 10 esplosioni e hanno ripreso l'estensione della distruzione causata. Come se non bastasse, le forze ukraine hanno distrutto tre posti di comando chiave, compresi quelli della 35esima e 26esima brigata motorizzata e quello della seconda armata combinata. Gli effetti sulla struttura di comando russa tuttavia sono ancora da valutare. Nella stessa ondata di attacchi è stato colpito un impianto ad Addivka utilizzato per aggruppare equipaggiamenti e personale, danneggiando le capacità combattive russe nella zona. In generale, l'Ucraina ha aumentato i suoi sforzi atti a ostacolare le operazioni nemiche, bersagliando non solo depositi di munizioni, ma ogni tipo di componente chiave dell'infrastruttura militare russa. In attesa di poter usare i sistemi d'alma occidentali sul territorio russo, le forze ukraine stanno provando a infliggere quanto più danno possibile usando i loro missili droni in una sezione importante dell'anno, quella che precede il peggioramento delle condizioni climatiche e della stagione del fango, che renderanno non solo molto più difficili ma anche più costosi gli assalti russi. Se siete contro l'invasione dell'Ucraina e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ucraina. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.